Nell'ottobre scorso era stata annunciata la chiusura entro la fine dell'anno. Ora, a quanto pare, qualcosa è cambiato. Se è vero o come è vero, che Coina sotto i portici a Bolzano chiuderà i battenti solo alla fine di gennaio. Come si ricorderà, la decisione è stata assunta a fronte dell'insostenibilità del canone di locazione, pari a 400.000 euro dei locali disposti su più piani, per un totale di 1.100 metri quadrati e di proprietà della famiglia Eccel. Il gruppo, che comprende anche i marchi OVS Dupi, ma ha già da tempo avviato trattative per quanto riguarda il personale. In tutto 18 dipendenti, 15 dei quali con contratto a tempo indeterminato e si è anche giunti ad alcune soluzioni. Due sono attesi dalla pensione, altri due hanno accettato il trasferimento a Trieste e Ravenna, altri due andranno in mobilità al termine della quale avranno raggiunto i requisiti per la pensione. Infine, un altro dipendente verrà ricollocato nel negozio OVS, sempre a Bolzano. Per altri otto collaboratori scatta invece la mobilità con un incentivo strettamente legato all'anzianità. Da aggiungere che una volta chiuso COIN, e si parla come data ultima, il 31 gennaio, n'espresso il punto vendita dell'azienda leader nel settore delle macchine da caffè ed accessori rimarrà comunque aperto, almeno fino alla fine di febbraio. Nel frattempo verrà cercata una nuova sede. Nel frattempo verrà ricollocato. Nel frattempo verrà ricollocato. Nel frattempo verrà ricollocato.